L'intenzione Cerchio Ifior attraverso Tuglia e Jan Do Utudes Shifo Qualcuno di voi potrebbe dire, ma i mistici, i mistici! Quanta sopravvalutazione viene fatta sui mistici, considerandoli degli esseri superiori e più vicini all'amore? Ma perché sia così, dovreste sapere l'intenzione che muove questi mistici. Cos'è che li spinge a ricercare questo amore? Vogliono possedere l'amore che è? Vogliono essere posseduti dall'amore che è? O semplicemente arrivano a questo stato senza neanche cercarlo? Quanti tra i mistici che vengono conosciuti nella storia dell'umanità sono diventati mistici, loro malgrado? E quanti invece hanno intrapreso una strada che cercava di portarli in qualche maniera verso il misticismo? E quindi sottintendeva il fatto che vi era una ricerca del misticismo? Ma se vi era ricerca del misticismo, non vi era la ricerca dell'amore che è, ma dell'amore che diviene. Ma se vi era ricerca del misticismo, si vi era ricerca del misticismo, non vi był in questo momento. ma lavorare